ciao ragazzi bentornati sul canale sono marco da solo ecco qui oggi ancora con un altro video buste promo una busta del potere e 15 buste promo volume 2 in teoria quello da motore abbiamo già trovato speriamo soltanto di andare a completare i vari 4x quindi recuperate l'altro video sempre dedicato a queste buste promo per vedere cosa c'è uscito e soprattutto in quante quantità e iniziamo senza perderci in chiacchiere come l'altra volta facciamo come la scorsa volta facciamo più o meno 7 8 bustine poi la busta del potere vediamo la prima carta il primo esordio sfera tre stelle ok le sfere sono sempre belle alla fine da trovare perché ho preso quello non lo so ok la base è due andiamo oltre olè la seconda carta è uscire a capire chi è? oh Veku ok quindi che spettacolo me l'ho scordato che ci poteva uscire pure lui buono così ora terzo pacchetto vediamo cosa ci regalano ma cimbu per ora stiamo variando mi sto preoccupando quindi mischiamo di un po' così magari si continua a variare vai attenzione 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 oh ole Veku andiamo oltre sono tutti uno eh potevano vabbè ok vai adesso c'è Majin Buu praticamente come l'altra volta iniziamo a trovare le carte in doppia copia sempre stesse carte poi di colpo credo che si inizia a variare no? eh su fai che mi sono mi sono scordato qualche altra promo che non ancora mi esce attenzione Vegeta almeno abbiamo variato adesso c'è 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 oh la sfera palese invece no Gohan bello di Gohan per ora ne sto trovando pochi questo Gohan promo 7 apriamo un'altra bustina e poi la busta del potere vai qui possiamo trovare mister satan ok quindi per ora sono uscite 1 2 3 4 5 6 carte diverse in otto pacchetti buono andiamo con la busta del potere ce la togliamo vediamo un po quindi ripeto che dovrebbero essere soltanto queste cinque appunto le carte che si trovano all'interno sono carte comunque tutte forti probabilmente per il mazzo Sharon e vediamo un po' Re piccolo, Great Siamen, UB, Tagoma e Vegeta rinforzi riduttanti perfetto le mettiamo qui al centro quindi confermo avevo questo minimo dubbio confermo che soltanto queste cinque carte si trovano all'interno e ci sta buono visto che non avevo mai aperte le buste del potere non avevo questa certezza andiamo avanti oh si rinizia con Bojack il tiranno bello adesso vediamo attenzione ancora lui e ancora Bojack il tiranno questi si impazziscono, mischiamoli un po' quante ne restano? 5 viene a iniziare a cambiare forse un po' lato andiamo un po' verso sinistra vediamo cos'è che si aggiunge vicino a Mr. Satan sfera 5 stelle potete recuperare l'altro video per vedere se queste carte già le ho trovate e in che quantità oh questa si è aperta abbastanza facilmente, forse la carta si è salvata sfera 3 stelle, eccolo qui eccola qui perfetto intanto sempre l'immancabile compagnia dei grilli ok, il terzo ultimo pacchetto attenzione solo lui poteva essere non esce solo lui poteva essere la sfera 5 stelle infatti vedi va lì a fianco tanta roba gli ultimi due pacchetti gli ultimi due pacchetti vediamo penultimo è VQ buono il 3x bene e l'ultimo pacchetto ragazzi ultimo l'ultimo o le Vegeta Vegeta la fine è quello che esce di più non è in questo pacco opening, se recuperate anche l'altro e niente possiamo concludere qui questo secondo video è dedicato alle buste promo se vi è piaciuto mettete mi piace condividete e soprattutto fai sapere cosa ne pensate seguiteci anche su Instagram attivate la campanella mi raccomando e ciao ragazzi al prossimo video sempre Vegeta sempre 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 l'ultimo